Si svolgerà domani ad Arborea, nella sala congressi dell'Ors Country Resort, il convegno internazionale promosso dall'associazione Sarda Turismo Equestre, il cavallo da Endurance. I lavori, cui inizio è previsto le nove, saranno aperti dall'intervento dell'assessore regionale dell'agricoltura Pierluigi Caria. A seguire, le relazioni tematiche di Massimo Pucetti, Dubai e Queen Hospital, di Alberic Terry, Abu Dhabi Equestrian Club, Elisa Lappo, veterinaria, Raffaele Cherchi, dirigente Agris e Salvo Manca, presidente dell'associazione Sarda Turismo Equestre. Coordine i lavori, il veterinario della FEI, Mauro Ardu. L'iniziativa è inserita all'interno della manifestazione Sardegna Endurance Festival, la competizione internazionale di Endurance Equestre, in programma auristano dal 30 giugno al 2 luglio, nella quale parteciperanno i migliori cavalli e cavalieri provenienti da Emirati Arabi, Africa e Europa. Il Sardegna Endurance Festival si svilupperà su un circuito, costituito da tre anelli, rosso dalla distanza di 36 km, bianco e giallo da 25, caratterizzati dai fondi erbosi e sabbiosi tipici del territorio del Golfo di Oristano.